La crisi dovuta alle bollette troppo alte continua senza sosta e i commercianti corrono ai ripari per evitare il peggio, ovvero il licenziamento dei dipendenti o addirittura la chiusura delle attività. Lamezia, supermercati in crisi per caro bollette, dai frigoriferi spenti al rischio licenziamenti. Energia, alle 12 i commercianti spengono le luci contro caro bollette. Iniziativa di Feder Distribuzione, Confcommercio, ANCD Conad e ANCC Coop. Ecco quanto accaduto ieri a Roma. Grazie a tutti. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.